Ciao amici, ormai lo sapete perché ne ho parlato in questi video. Soffriamo tutti di una nuova sindrome, lo stress post-traumatico da quarantena. E chissà quando ce lo toglieremo di dosso. Infatti, ma per questa situazione intanto non è il caso di ricorrere a farmaci chimici, calmanti, ansiolitici, perché creano dipendenza. Ma non possiamo neanche scaricare lo stress andando a fare una bella corsa o andando a fare un po' di esercizio in palestra o facendoci fare un buon massaggio. Soprattutto il massaggio fa bene, lo dice la scienza. E proprio come vi ho raccontato negli scorsi video, anche l'automassaggio fa bene se fatto con il metodo Ayurvedic Touch, una tecnica piacevolissima ed esclusiva che ho messo a punto in oltre 20 anni di pratica, studio e insegnamento di massaggio ayurvedico. Pensate che ha le stesse potenzialità pari a quelle che la scienza attribuisce al massaggio. Abbassa il cortisolo, l'ormone dello stress che crea infiammazione e disturba il sistema immunitario. Aumenta le endorfine, gli ormoni della felicità collegati all'efficienza del sistema immunitario. Pulisce il sistema linfatico, migliorando l'eliminazione, anche da parte dei reni, delle tossine e delle scorie che si accumulano nel corpo. Defatica il sistema immunitario, lasciandolo libero di occuparsi delle cose importanti e non delle tossine. Migliora la circolazione, agendo sulla quantità e anche sulla qualità del sangue che scorre nelle vene e nelle arterie. Riduce la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. In questo modo il muscolo del cuore si rafforza. Facilita la respirazione grazie al rilassamento, con una maggiore e migliore ossigenazione del sangue e dei tessuti. Scioglie le contratture muscolari e i dolori che si creano e si accumulano durante la giornata a causa dello stress. Favorisce la scioltezza anche a livello osteoarticolare, con una maggiore elasticità e facilità di movimento. Elimina le tensioni, aiutando l'organismo a mantenere l'equilibrio in ogni suo sistema. Rilassa la mente, perché il cervello ha un collegamento embriologico con la pelle, perché derivano dallo stesso foglietto embrionale. Quindi quando massaggiamo la pelle, in un certo senso massaggiamo anche la mente. Sì, ma come si fa a farsi un automassaggio? Con il mio metodo Ayurvedic Touch tutti possono imparare a fare l'automassaggio seguendo le immagini del videocorso che ho preparato. È facile ed è efficace per tutti ed è anche in offerta, ma attenzione, solo fino ad oggi. Ma perché solo fino a oggi? Sono tre giorni che ne parlo, ma ora voglio che prendiate la decisione di agire subito, perché so che avrete enormi benefici da questa tecnica, come tutte le persone che la stanno già usando. È il momento giusto per inserire l'automassaggio nella propria routine quotidiana o settimanale e avere benefici concreti. Se non ne approfittate ora, il corso non sarà più super vantaggioso e tutto il materiale ai bonus che regalo non saranno più disponibili. Infatti, in offerta potete avere anche i miei bonus gratuiti su come individuare la tua costituzione ayurvedica, come preparare gli oli da massaggio adatti alla costituzione, come rendere un angolo della tua casa una meravigliosa spa di lusso, come fare per rilassarsi completamente. La promozione dura ancora poche ore, accedete subito dal link in descrizione e poi raccontatemi nei commenti come vi trovate e come vi sentite rigenerati. Bene, io vi aspetto nel prossimo video e anche nel videocorso. Noi ci vediamo presto, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao!